magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale è tempo delle due top 11 la classica e la scommessa però prima di cominciare vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale e vi ricordo anche che oggi sarò in live alle ore 14 qui su youtube per i primi fanta consigli o intorno alle ore 14 e 30 ci sposteremo su twitch per un'altra mezz'oretta di live mentre domani allo stesso orare alle 14 sarò qui su youtube però la live di domani durerà un'oretta quindi intorno alle 15 poi ci sposteremo su twitch almeno mezz'oretta prima di andare a vedere la top 11 scommesse voglio fare i complimenti all'inter per il passaggio del turno devo dire che io ero abbastanza fiducioso dopo lo 0 a 2 infatti l'avevo scritto anche nel gruppo telegramma degli abbonati sono molto contento perché l'inter ha giocato veramente bene barella sugli scudi ma anche lautaro infatti prima del gol io avevo scritto un messaggio nel gruppo dicendo sta tornando e alcuni hanno scritto chi 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 quando ha segnato detto eccolo chi stava tornando perché l'avevo visto che era molto in palla e l'ho visto in 3 4 situazioni in cui era tornato il vero lautaro speriamo non sia nulla di grave perché io non me ne sono accorto durante la partita ma è uscito per un piccolo infortunio speriamo veramente non sia niente perché abbiamo bisogno ancora di lautaro martinez vi dicevo bene barella e l'altro che avevo visto che già nei primi minuti era tornato è di marco perché era qualche partita che a causa anche dei problemini che aveva avuto non era al 100% vi dicevo bene l'inter perché l'ha vinta l'ha vinta diciamo l'ha vinta però alla fine poi è uscito un pareggio diciamo se devo andare a trovare il pelo nell'uovo non mi è piaciuto dall'ottantatresimo in poi perché non puoi mollare così la partita loro hanno preso un palo i due gol alla fine è sempre una parte di champions ok che il risultato era andato dopo il 3 a 1 di correa anche anche quello molto bello però un minimo non devi mollare cioè magari ci sta che prendi un gol ma andare a prendere due gol un palo in dieci minuti non capisco questi cali di tensione ripeto la qualificazione ormai in semifinale era era scontata però non mi è piaciuto quindi ci sarà un bel derby il derby in semifinale di champions così come già successo in passato speriamo ci siano delle belle partite sul sul Manchester City anche ieri è andato a vincere contro il Bayern c'è poco da dire la semifinale Manchester City da una parte e il Real dall'altra potrebbe essere veramente una partita spettacolare mi piacciono entrambe perché alla fine per noi italiani vedere il derby è bellissimo ma anche quello è una grandissima è una grandissima partita devo dire che magari sulla carta è favorito il Manchester City però il Real ha una mentalità europea loro hanno rifilato un 4 a 0 tra andate a ritorno al Chelsea quindi insomma è una partita abbastanza equilibrata come vedo equilibrato un po il derby anche se lì una squadra leggermente favorita la vedo ma non voglio dirvi nulla vado a rispondere e poi passiamo alle top 11 anche a Michele che ieri mi ha chiesto su Zielischi che secondo lui ha fatto veramente male e io ho un po una mia teoria nel senso che secondo me l'errore più grave di Spalletti ma non solo in questa partita diciamo in tutto in tutta questa stagione è non aver mai trovato un'altra soluzione al 4-3-3 cioè una volta che tu con il Milan non è che rischi perché il Milan giocava in quel modo si difendeva e appena poteva di ripartenza provava a fare il suo un Zielischi lì non so quanto gli è stato utile da mezzala cioè mi sarei aspettato se però l'avessi provato in allenamento in qualche partita un passaggio a un 4-2-3-1 un modulo un po' a specchio ma non tanto perché dovevi metterti a specchio ma perché andavi a sfruttare le qualità offensive di Zielischi o Raspadori quando quando entrava secondo me col 4-2-3-1 poteva mettere più in difficoltà il Milan perché poteva essere una posizione scomoda per sia i centrali perché in quel modo potevano stare su Osimène infatti Osimène che ne dicano Osimène ha fatto bene Osimène l'unica palla che è riuscito a toccare è quella che fa gol all'ultimo minuto per il resto secondo me non ne ha prese le hanno prese tutte loro di testa e secondo me quindi con un Zielischi sotto punta barra Raspadori il Napoli poteva essere molto molto più pericoloso però questo è il passato andiamo a vedere i nostri top 11 ma lasciamo i like mi raccomando ragazzi passiamo come sempre alla top 11 scommesse in porta c'ho messo Silvestri sicuramente un portiere che in queste giornate non sta facendo bene ha preso anche tre gol contro la Roma in questa partita diciamo è una partita abbordabile sulla carta con un Udinese Udinese Cremonese che secondo me ecco qui ci sta magari un bel un bel clean sheet e quindi io lo voglio mettere la mia top 11 diciamo diciamo subito che non è stato facilissimo fare le top 11 oggi perché ci sono tante partite un po così quindi anche andare a trovare le scommesse non è stato semplice e lo vediamo anche dai nomi ci ho messo malcini ovviamente ragazzi non è una scommessa è un giocatore più importante però non è un bomber è un giocatore dal 6 bene o male questa settimana viene da un votaccio perché ha fatto l'assist ha fatto ha preso il giallo e ha creato il rigore e quindi ha preso 5 meno ammunizione 4 e mezzo però è buona la sua stagione il suo 6 e mezzo arriva quasi sempre e lo metto da ex contro l'Atalanta magari ci porta un bonus poi ci ho messo Pablo Mari anche qui si nota la difficoltà di trovare dei giocatori da andare a mettere il top 11 e questo lo metto perché di tanto in tanto un colpo di testa di Pablo Mari arriva potrebbe essere questa magari la partita in cui torna il bonus ero indeciso tra lui e Izzo alla fine sto andato su Pablo Mari poi ci ho messo De Paoli sicuramente una partita importante quella col Bologna De Paoli devo dire che i golletti li ha messi quest'anno sicuramente del Verona è tra quelli che hanno fatto meglio forse tolto la Darko Lazovic e qualcun altro forse è il migliore poi De Paoli quindi è uno che il gol ce l'ha è un nostro difensore magari da ultimi slot lo voglio rischiare passiamo al centrocampo parto da destra Totigno Candreva sicuramente la partita non è delle più semplici c'è un Salernitana Sassuolo però il Sassuolo è una squadra che ti concede è una squadra che ti lascia giocare e Candreva può essere un giocatore da assist da gol anche anche nell'ultima a me non è dispiaciuto contro contro il Torino c'è dato anzi anche vicino quando si inserisce Piontek e va sulla base del palo è uno che secondo me potrebbe far bene perché sulle fasce Sassuolo potrebbe soffrire tanto è da vedere anche la posizione in campo perché potrebbe giocare trequartista e forse addirittura è anche meglio ma anche sulla fascia magari può portarci un bonus uguale poi ci ho messo Sandy Lovric giocatore che a me piace è uno che ci prova spesso non sempre prende la porta però diciamo che per chi ha seguito un po' i consigli quest'estate e l'ora ha preso a un credito il suo l'ampiamente fatto perché se andiamo a vedere è un giocatore che di bonus ce ne ha portati uno anche da una media voto 6.16 Fanta media voto 6.62 quindi abbastanza abbastanza bene 4 gol totali 3 assist quindi capite bene che non è non è affatto male e poi questa settimana come dicevo Dinesi e Gremonese potrebbe essere una partita in cui può portarci un bonus poi ci metto Ismail Ben Nasser un giocatore come dicevo anche nel video di ieri per chi se l'è perso ve lo lascio qui sopra in cui commento anche ci sono tutti i fantaconsigli ma commento anche la partita Napoli-Milan secondo me Ben Nasser è quel giocatore che tu se non hai un occhio attento lo valuti come un giocatorino invece questo per me è un gran giocatore devo dire che il Milan quando l'ha preso dall'Empoli a 16 milioni se non sbaglio questa era la cifra era un po' titubante come dire la cifra è una cifra importante poi però vedendolo nel Milan mi sono ricreduto perché è il cervello del Milan dà il ritmo sa tenere palla è un giocatore che ora che Pioli lo usa da trequartista spostando a destra Brian Diaz può essere anche un giocatore da bonus e quindi l'ho messo per quello poi per chi fa il mantra potrebbe essere veramente un giocatore spettacolare perché da M può diventare una delle migliori M se già non lo è io l'ho preso devo dire e spesso lo metto dentro anche quando non mi porta un bonus magari il buon voto me lo porta a casa il prossimo anno ragazzi perché io già sto programmando la stagione 2023-2024 sul mantra voglio portare più contenuti di quest'anno oltre che aumenterò i contenuti sui fantacalci al listone non portando più magari le squadre come ho fatto l'anno scorso ma aiutandovi facendovi capire le regole so che questi video non andranno virali magari come le squadre perché tutti vogliono vedere i giocatori che ci metti però se volete veramente diventare non dico professionisti ma forti nei fantacalci al listone dovete prima di tutto imparare le regole per gestire al meglio prima come fare la squadra e poi come quando fare i cambi anche se lì ci vuole pure l'esperienza perché altrimenti magari rischiate di bruciarvi i cambi inutilmente e poi passiamo a Simone Verdi centrocampista molto offensivo del Verona che giocherà contro la sua ex squadra il Bologna potrebbe essere uno dal dente avvelenato perché lui spesso da ex ha messo le perette quindi è un giocatore che da ex spesso fa gol è uno di quelli che questa settimana io incornicio di solito quando faccio la cornice perché sento qualcosa lui potrebbe essere quel giocatore che questa settimana fa gol quindi magari per chi lo ha e non vorrebbe metterlo a altri giocatori valutate in base alla vostra rosa ma lasciamo i like passiamo davanti il primo nome Manolo Gabbiadini questa settimana mi piace più della scorsa anche se poi è portato un 7 però è un giocatore che questa settimana mi ispira quindi Gabbiadini diciamo quest'anno è stato un po' così o non fa bonus o ne porta due in una volta quindi fate molta attenzione se decidete di pancarlo perché potreste mangiarvi le mani quindi è un giocatore che se sta bene fisicamente sicuramente può portare bonus in tanti modi ha un gran bel tiro da fuori è vero che la Samp non è una squadra da moltissimi gol però ultimamente anche in caso i colletti li stanno facendo quindi Samp Spezia potrebbe essere una buona partita passiamo a Christophe Piontek ancora mi prende in giro Vincenzo perché all'asta di riparazione non quella di gennaio ma quella dopo 5 partite con Piontek ero partito da 20 e lui probabilmente non ha offerto più nessuno io pensavo andasse più alto e lui ancora mi prende in giro per questo alla fine fino ad ora ha avuto ragione lui Piontek non ha affatto bene però è in ripresa io l'ho visto bene contro il Toro quindi è un giocatore schierabile ovviamente non è da mettere assolutamente però secondo me è schierabile perché lui magari è un altro che vive di momenti quest'anno non è andata benissimo però sono convinto che potrebbe tornare al bonus e quindi lo voglio andare a mettere anche se però ragazzi vi ho detto di questo di Vincenzo però Vincenzo è anche quello che mi prendeva per il culo per aver scelto di prendere Valeria 10 crediti e non essere poi riuscito però a prendere Lukaku ovviamente io non mi aspettavo che Lukaku spendessero tutti i crediti che avevano anche perché eravamo ancora c'erano ancora tanti giocatori però quello che è importante ragazzi quando si è in asta non pensare solo al top player ovviamente non mi aspettavo una stagione così deficitaria per non usare termini peggiori di Lukaku però io quando faccio una rosa io cerco di farla forte in tutti i repassi e anche nei panchinari perché tantissime volte e quest'anno ne è la conferma pensate se voi aveste potuto fare una squadra con Pasalic, Pellegrini tutti questi giocatori qua in difesa gli Skriniar tutti questi giocatori che hanno flopato i Danfris voi avevate preso tutti i top e non ve ne è uscito uno con le scommesse potete andare a recuperare io vi dico nei miei Fanta non ho nessuno Z-Man cioè non ho nessuno Z-Man eppure sono in tutti in lotta almeno per il podio e in tanti sono primo barra secondo a un punto a scontri e a punti totali sono lì ma perché faccio delle squadre complete cioè magari ho preso il difensore forte e mi ha flopato però ci ho messo il Carlos Augusto il Valeri il Posh e con quelli tu vai a togliere quello che cioè ad aggiungere quello che ti toglie il top quindi fate molta attenzione ragazzi quando costruite le squadre oggi vi consiglio anche un po' random oltre ai top 11 l'ultimo nome Caprari è un giocatore che da un bel po' che non porta non porta il bonus quello quello è importante però è un giocatore che alla fine il suo potrebbe farlo contro la Fiorentina la Fiorentina è leggermente meno in forma rispetto a tutte quelle vittorie che ha fatto a fila però la Fiorentina è una gran bella squadra però sono convinto che con i dribbling potrebbe andare a fare un bonus o in termini di assist o in termini di gol io mi aspetto un gol da Caprari questa settimana vediamo vediamo se ci prendiamo ma prima della top 11 classica c'è il regalino per tutti voi quello che aspettate tanto la fortuna viene a me la fortuna viene lì dai ragazzi su con i like per la seconda canzoncina perché la prima ve l'ho messa qui nei fantaconsigli magari cantatela insieme a me che può portare veramente fortuna e ovviamente lasciamo i like passiamo alla top 11 classica in porta ci metto quel fenomeno di megnan io onestamente qui non penso che debbo andare a spiegare perché si mette megnan portiere veramente straordinario l'ha dimostrato contro il napoli e devo dire che se se avessimo spostato i portieri da una parte all'altra forse forse il napoli poteva essere in semifinale secondo me è lui che ha fatto la differenza magari insieme a Leao e a qualcun altro però megnan tanta roba tolto anche il rigore su di Lorenzo all'andata e poi ti dà una cosa che vado ad evidenziare e poi andiamo avanti voi guardate quando c'è una punizione quando c'è un corner megnan come tra virgolette rimprovera passatemi il termine come tiene alta l'attenzione dei suoi compagni cosa voglio dire per chi ha giocato anche un minimo a calcio a calcetto a qualsiasi gioco il portiere è fondamentale perché il portiere quando ti urla quando dice attento c'è quello lì ti alza l'attenzione anche se tu sei concentrato in partita quel quel gridare del portiere è utilissimo è un qualcosa veramente che ti aiuta soprattutto per i difendenti ad alzare l'attenzione magari un tataro sano a volte grida ma non so quanto quanto lo ascoltino un megnan tanta roba poi lo metto contro il Lecce mi aspetto un cliché anche se il Milan è un po' una squadra particolare che può vincere col Napoli e perdere contro una squadra di serie D però secondo me megnano va messo sono contento da un lato che settimana scorsa abbiamo preso Rui Patrizio non sono contento perché non aveva il primo in generale da me andiamo a destra ci metto Posh questo è un gran difensore è uno che ti fa l'assist come settimana scorsa ti fa i gol spero continui così perché è l'unico sono l'unico ad averlo in quel fanta lì devo dire che è una goduria perché con quei sei e mezzo sette più gol mi fa prendere il modificatore sta settimana purtroppo Doloi non mi ha permesso di prendere il più tre però sicuramente non può essere colpa di Posh lo metto perché questo è un giocatore che forse quando non fa bonus gli danno mezzo voto in meno anche rispetto a quanto meriti però va messo assolutamente Teo Hernandez anche qui c'è poco da dire Milan Lecce è uno di quelli che può portarci sempre un bonus quindi questa è la top 11 ragazzi per chi gioca nei fantacalci a listone che ogni settimana può andare a cambiare i giocatori quindi tante volte mi dicono ma questo è scontato ma non è per quello che lo porto lo porto per i ragazzi che giocano ogni settimana possono fare una squadra e quindi li aiuto così sul terzo nome Di Marco qui vi dico non l'ho messo per la prestazione di ieri perché il mio quadernino nel mio quadernino l'ho scritta ieri le due top 11 sono andato a ricontrollarle solo uno l'ho cambiato e poi vi dico che Di Marco lo metto perché ex potrebbe fare veramente bene e poi ancora di più dopo la prestazione di ieri sono convintissimo di metterlo non lo so quanto turnover farà Inzaghi questo mi preoccupa perché magari ragazzi domani venerdì se dell'Inter si parla di turnover quindi di Marco fuori allora lì vi do un altro nome magari e valutate voi il l'ultimo nome è il nostro Re Carlos Augusto giocatore che non si può mettere in discussione io devo dire anche a listone l'ho messo in tutte le squadre la settimana scorsa e mi ha ripagato con un bel 6,5 io non dico che ero convinto però era abbastanza fiducioso di un buon voto poi certo non mi potevo aspettare una vittoria del Monza e quello ovviamente amplifica ancora di più i voti anche se devo dire c'è chi ha dato 7 a Carlos Augusto quindi addirittura il 6,5 potrebbe anche starci stretto vi do anche l'alternativa per questa giornata potrebbe essere Destiny Udoge che non sta facendo benissimo però la partita Udinese Cremonese è abbastanza tra virgolette passatemi il termine facile anzi mettiamo le foto che è meglio così quindi passiamo al 3-4-3 per chi gioca magari senza modificatore di difesa allora andiamo a levare magari un Di Marco perché Carlos Augusto io non lo levo e allora allora andiamo coi centrocampisti il primo nome parto subito forte Felipe Anderson Felipe Anderson lo metto perché Lazio Torino per me è una partita particolare spesso il Toro è andato a fare anche bottino pieno a Roma quindi è una partita in cui la Lazio dovrà dovrà cercare di fare del suo meglio per avere per avere questa vittoria il Toro è una squadra non facile da affrontare perché si difendono bene magari non sono fortissimi davanti non fanno tanti gol però dietro diciamo riescono a a difendere bene però Felipe Anderson l'ho visto veramente bene con lo Spezia purtroppo devo dire purtroppo perché nei listoni ne ho pochi di Felipe Anderson ho più Zaccagni e Milinkovic Savic però io le top 11 cerco di mettere i migliori giocatori per questo turno e secondo me lui è tra i migliori ma lasciamo i like ma lasciamo i like poi ci metto Brian Diaz giocatore importante per questo Milan sicuramente il fatto che giochi contro il Lecce può essere uno stimolo in più per andare a metterlo in top 11 e anche il fatto che questa settimana ve lo dico già da ora ancora siamo a 2 non metto Kvara ma non lo metto perché lo voglio bocciare dopo la prestazione contro il Milan che secondo me vi ripeto sicuramente non è una delle sue migliori prestazioni ma ha le sue attenuanti non lo metto perché contro la Juve secondo me è una partita molto più complicata e quindi preferisco andare a rischiarmi un Brian Diaz in Milan Lecce giocatore che ultimamente gioca a destra piuttosto che centrale passiamo agli ultimi due nomi questo è un giocatore veramente che spero possa fare bene perché lui lo abbiamo tanto nei listoni ed è Riccardino Orsolini io spero che il Bologna possa fare una buona partita è che Orsolini o Posh mi portino un bel bonus sono giocatori che secondo me hanno nelle corde assist gol Orsolini ci può calciare un rigore quindi è uno che se ha una partita abbordabile è sempre da mettere in top 11 perché non ci sono grossissime alternative questa settimana e quindi lo metto anche molto volentieri anche perché è pure riposato dopo il turno di squalifica l'ultimo nome andiamo su quello che quanto mi farebbe godere un bonus di Zaccagni è un giocatore che è ritornato a fare bene ormai da diverse giornate con lo Spezia speravo in un bonus suo ci riproviamo in Lazio Torino è uno che devo dire la verità se devo scegliere tra Zaccagni e Felipe Anderson questa settimana prendo Felipe Anderson ma non solo perché uno lo e l'altro no non lo so la sensazione lo vedo meglio in Lazio Torino Felipe Anderson però Zaccagni è uno che dà sicurezza perché anche quando non fa bonus la sua prestazione non manca e quindi lo voglio mettere in top 11 prima di passare attaccanti ragazzi i like i like i like gli ultimi tre nomi allora il primo anche se è contro la Juve anche se è contro il Milan non ha fatto una partita indimenticabile Victor Rosimhen io ce lo metto perché sono sicuro che partirà titolare contro contro la Juve e la Juve è una squadra che è vero che si difende però non lo so secondo me Rosimhen il suo gol lo può portare anche all'ultimo che ha fatto contro il Milan quindi io lo voglio andare a schierare io ho un po' una mia teoria che secondo me al Napoli lo hanno studiato tanto soprattutto le big e quindi hanno cercato di prendergli le contromisure però quello che dicevo di Spalletti che deve cercare anche di cambiare nel momento in cui non gira o sei sotto in una partita col modulo sempre uguale a volte è difficile riuscire poi andare a riprenderla passiamo agli altri due quelli forse meno scontati il primo è Rafa Leao che sicuramente è una partita diversa contro il Lecce il Lecce non concede il campo che gli ha concesso il Napoli non in entrambi in tutte le partite di questo di questo sia del campionato ma anche in Champions e quindi attaccare la profondità non è facile però è in fiducia quindi lo voglio andare a mettere perché è vero quello della profondità ma è anche vero che alcune volte può far bene anche a difesa schierata perché alla fine il dribbling lo ha se magari quando calcia invece di portare la schiena indietro e spararla lì sopra punta meglio la porta può regalarci delle soddisfazioni quindi Rafa Leao in top 11 l'ultimo nome era quello è quello non era è quello in cui ho più dubbi è quello che ho cambiato ci ho messo un balanzo là all'ultimo secondo me con la Sampo potrebbe far bene è una partita abbordabile sulla carta e se a Bala gli dai mezza palla gollo il gol lo fa con la Lazio non ci è riuscito la palla gollo buona ce l'ha avuta ma non ce l'ha fatta questo mi fa pensare ancora di più che può tornare al bonus l'ha fatto anche in altre partite ora mi pare contro il Verone in cui non è riuscito a buttarla dentro qualcosa anche sbagliato quella dopo subito in gol ed era una partita complicata quella dopo quindi lo metto vi do le alternative sia a centrocampo che davanti a centrocampo ci ho messo il sergente Milinkovic Savic ovvio che se già mettete Felipe Anderson in Zaccagni magari potete mettere il sergente al posto di 1-2 magari non ne rischia dei 3 perché se metti caso il Toro vince con la Lazio potete andare a fare veramente male e mentre davanti avevo messo o Di Bala prima di Inzolà oppure l'alternativa che vi avevo dato anche settimana scorsa interessante è Artur Cabral sono messo con questi i giocatori che potreste andare a mettere magari in caso non vi piaccia Inzolà o Rafa Leao penso che Osimène anche se contro la Juve è da andare a schierare ragazzi io vi ricordo gli appuntamenti di oggi ci vediamo ore 14 qui su Youtube in live per i fantaconsigli una mezz'oretta di live poi ci spostiamo su Twitch quindi ore intorno alle 14.30 sono su Twitch altra mezz'oretta poi domani ci vediamo qui su Youtube per il video dei fantaconsigli in pillole e poi ci continuiamo in live alle ore 14 come facciamo oggi però la live durerà un'oretta quindi domani 14.15 live su Youtube 15.15 15.30 live su Twitch ragazzi con questo è veramente tutto ciao ragazzi